Questa è l'immagine dell'estate messinese 2015. All'arderia e emergenza igienico-sanitaria, la raccolta dei rifiuti è ferma da giorni, alla faccia dell'annuncio del sindaco Renata Corinti, che ospite il nostro telegiornale, aveva garantito il ritorno alla normalità in tempi brevissimi. In tanto momento i rifiuti, entro pochi giorni, ritorneremo alla normalità. Ma il fallimento della gestione del settore è ormai conclamato, è sotto gli occhi di tutti. Le riprese oggi sono state realizzate lungo la strada provinciale 39, che collega la statale 114, dal vivo di tre mestieri ai villaggi di Larderia e Tipoldo. Sacchetti e la spazzatura invadono la corsia stradale e costringono gli automobilisti a fare lo slalom. Qui probabilmente serve l'intervento di Bobcat e mezzi meccanici per ripristinare condizioni di normalità. Ma tutto il villaggio in questo momento è in ginocchio. Ecco la situazione lungo la strada che costegge il torrente Larderia. Qui esiste una vera e propria discarica. I cassonetti sono stati spostati d'altrove, ma i residenti hanno continuato ad utilizzare quest'area per il conferimento dei rifiuti. Il mancato intervento degli operatori di Messina Ambiente ha di fatto peggiorato una condizione già al limite della vivibilità. Le calde temperature di queste ore contribuiscono a favorire un'emergenza che è dunque anche sanitaria, oltre che ambientale. Una patata bollente nelle mani del nuovo commissario di Messina Ambiente, Giovanni Calabro, un'eredità lasciata dal supermanager Alessio Ciacci.